Buonasera e benvenuti al TG7 Basilicata. Lo scorso mese di aprile gli agenti della squadra a volante hanno rilevato a seguito di un controllo su strada una serie di irregolarità su mezzo a tre ruote condotto da un cittadino materano. Questo mezzo non aveva copertura assicurativa, nel revisione il telaio sovrascritto rendeva assolutamente sospetta la provenienza del veicolo. Il conducente fu allora condotto in questura per redigere i verbali. All'esterno della questura era aggiunto il fratello dell'uomo ed entrambi avevano iniziato ad effettuare riprese con il telefono cellulare, affermando tra l'altro di essere vittime di abusi di potere da parte dei poliziotti. Avevano poi aggiunto di essere stati picchiati, questo per ostacolare l'attività degli agenti, che ovviamente non sono fatti assolutamente forviare da questa messa in scena. Si è poi accertato che due soggetti avevano pubblicato persino due video ripresi in quei momenti concitati, alcuni sui social network, una pagina Facebook tra l'altro molto seguita a Matera e WhatsApp. Nei poste offendevano pesantemente gli agenti, che hanno ovviamente puntualmente ricostruito tutta la vicenda. I due materani, già noti tra l'altro alle forze dell'ordine per una serie di precedenti di polizia, sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Matera per reati di ricettazione e diffamazione attraverso internet. I video sono poi stati, grazie all'ausilio degli esperti della polizia postale, rimossi dal web. E' stato fermato l'avvio del dipattimento fissato per il 10 giugno per i tifosi della Vulturo a proposito dell'agguato di Vaglioscaio dello scorso 19 gennaio. La richiesta sarà valutata il prossimo 7 luglio. Questo è quanto viene riportato sulla Gazzetta del Mezzogiorno nell'edizione odierna, in cui i legali dei supporti rioneresi hanno chiesto la missione dei loro assistiti ai servizi sociali in prova. Il GIP di Potenza, Seto, aveva accolto questa richiesta di giudizio immediata presentata dalla procura per tutte le persone arrestate. Sarà il GIP Reggio questa volta a decidere a luglio il seguito. Se dovesse essere accolta la richiesta di messa alla prova, l'interessato seguirà il programma con dedizione senza violazione, non solo decadrà il processo ma sarà addirittura estinto l'intero reato. In seguito sarà poi da definire soltanto la posizione del tifoso Melfitano. Andiamo all'ultima notizia. Aumenta il triste conto delle morti lucane legate al coronavirus. Stamattina è deceduto all'ospedale San Carlo di Potenza, un 78enne di Avigliano. L'uomo era ricoverato nel reparto di pneumologia dopo essere stato per un lungo periodo in terapia intensiva. Era infatti stato ricoverato il 23 marzo dopo un periodo appunto nel reparto di terapia intensiva le sue condizioni sembravano persino migliorate tanto da essere stato trasferito in pneumologia. Gli ultimi tamponi risultati anche negativi purtroppo però le condizioni di salute pregresse, le complicanze legate al covid-19 hanno portato alla morte dell'uomo. Anche il fratello sempre di Avigliano era morto dopo il contagio da covid. Io come tutte le sere vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento domani. Grazie! Grazie